Estate 2011, siamo ritornati in un posto veramente magico e straordinario e lo abbiamo ritrovato ancora più bello di qualche anno fa. Parliamo del Lido La Fiesta, del nostro amico Pio. Guardate le immagini, intanto noi ci troviamo su una scogliera meravigliosa per una grande estate. Lido La Fiesta. Il ritmo della notte, San Sofìa sta. Amigos, che calor, questa macchina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot, you know we go, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right. Baila, 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 baila. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofìa sta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofìa sta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofìa sta. Amigos, che calor, questa macchina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. Baila, 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 bail Ti piace l'idola fiesta? Sì, vengo da molti anni. Quanti anni? 12, 13. Lo consiglierebbe a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento da casa? Certamente. Vieni spesso qui a l'idola fiesta, ti piace? Sì. Si sta bene? Si sta benissimo. Siamo nella zona solarium, tranquilli. Siamo nella domenica, un po' di confusione. Meno male che c'è la confusione. Meno male, certo, sì, meno male. Buona estate, viva l'idola fiesta. Viva l'idola fiesta. L'idola fiesta, marina di Schitella, un lido che si impegna per la differenziata. Soprattutto si impegnano tutti i clienti che frequentano il lido la fiesta per l'estate 2011. Quindi trovate gli appositi contenitori, quello giallo multimateriale, bottiglie d'acqua, bibite ben schiacciate, flacconi detersivo, shampoo, tappi, bagno schiuma, insomma tutto quello che riguarda il contenitore giallo multimediale. Quello marrone per l'umido, scarti, cucine e altra roba, quello bianco, carta e cartone e il contenitore grigio indifferenziato per una pulita differenziata l'idola fiesta. La playa del sol, tu e io a la festa, la playa del sol, il ritmo de salsa, la playa del sol, la noche infinita, la playa del sol, il ritmo della vita. Tiri da, te pa pa, te pa 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 Tiri da, te pa pa, te pa 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 Tiri da, te pa pa, te pa 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 Tiri da, te pa pa, te pa 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 Vamos! La noche estirida! La playa! Ritmo! Ritmo de salsa! My heart is cold, don't leave me alone And I will last forever Babe, show me the night, the secret of time, the secret of life El deseo será muy fuerte con todo tu ser, mi amor La noche será caliente, despierta en mi pasión La playa del sol, tu y yo a la que está La playa del sol, el ritmo de salsa La playa del sol, la noche infinita La playa del sol, el ritmo, la vida E tra un'immagine e l'altra del Lido La Fiesta Marina di Ischitella Per la tua estate 2011 ci sono delle promozioni veramente incredibili Da lunedì al sabato per soli 4 euro a persona Potete soffrire dell'ingresso, più il lettino, più il posto auto, più la consumazione Naturalmente la domenica si paga 5 euro Un solo euro in più, ma da lunedì al sabato per soli 4 euro a persona Ingresso, lettino, posto auto e consumazione Lido La Fiesta Marina di Ischitella Per la tua grande estate 2011 Io dico che Lido La Fiesta bisogna frequentarlo perché guardate che abbronzatura Il tuo nome? Angela Angela, questo è tutto il sole Lido La Fiesta? Sì, sì È un posto che consigliate a tutte le coppie che ci stanno guardando? Sicuramente Si sta bene, si sta nel solario? Sì, si sta benissimo qua Quindi per venire a mare questo è il tuo posto preferito? Ebbene sì E le tue vacanze invece? La mia vacanza ancora non è organizzata Ma in Italia o fuori? In Italia Con lui? Eh sì Rigorosamente con lui Marca la stretta sicuramente Mi domando come si fa ad essere così abbronzate Non lo so, proviamo un po' di capelli perché l'abbronzatura del capello deve essere importante Ma io voglio sapere come si fa a diventare così belle, così abbronzate Bisogna venire a mare tutti i giorni Scopriamo il viso, togliamo quei capelli davanti al viso Questa farfallina tatuata qui Ma da dove vieni? Fomigliano d'arco Fomigliano d'arco Quante ore bisogna stare al sole per avere una pe... 3 al giorno Il Lido La Fiesta ti piace? È il posto giusto? Tantissimo Quindi lo consiglieri a tutte le persone che ti stanno guardando in questo momento? Certamente sì Venite a Lido La Fiesta Ok, venite a Lido La Fiesta Buona dormita Grazie Si sta veramente bene per trascorrere una giornata in totale relax Lido La Fiesta, Marina di Ischitella Presenti anche nelle telecamere di Weekend S Per documentare la giornata del vacanziero napoletano E poi online prossimamente è in Work in Progress Il sito www.lidolafiesta.it Scoprirete le cose più interessanti per la vostra vacanza dell'estate Grazie a tutti per la vostra vacanza dell'estate Grazie a tutti per la vostra vacanza dell'estate Lido La Fiesta è estate 2011 Grandi novità anche per quanto riguarda il settore della spiaggia Zona ombrelloni e sdraio riservate principalmente alla famiglia E poi anche la nuova aria solarium Frequentata da tantissimi giovani che si trova nell'altro lato della spiaggia Quindi veramente per tutti i gusti Lido La Fiesta estate 2011 Buon divertimento a tutti Buon divertimento a tutti Lido La Fiesta Lido La Fiesta Marina di Schitella per una estate 2011 veramente straordinaria Vi presento la signora Signora Emiliana Pepe Che viene da dove? Da fuori grotta Gennaro Lama, napoletano, vivo a Brescia Parliamo prima con il napoletano, però vivo a Brescia Come ha trovato la struttura di Lido La Fiesta? Completamente trasformata con tanto di scogliera, con tanto di solarium, con tanto di spiaggia, con ombrelloni e sdraio? Ma devo dirti la verità, solitamente andavamo verso il villaggio Coppola quando scendevamo in vacanza da Brescia E la prima volta che vengo qui mi sembra abbastanza carino, sistemato bene, molto buona l'attrezzatura Il comfort, la differenziata Esatto, quella è una cosa importantissima La differenziata con tanto di contenitori colorati, quindi uno non può sbagliare Non può sbagliare, mettiamoci tanto di nostro, anche se speriamo presto lo facciano anche in città Perché soprattutto io che vivo fuori, sono a Brescia Non è bello vedere gli spettacoli che fanno vedere nelle televisioni nazionali Completamente trasformato Lido La Fiesta, le piace? Sì, tantissimo, questa è la terza volta che noi veniamo, ci troviamo bene Quindi lei se dovesse dare un consiglio alle altre amiche che la stanno guardando da casa Consiglierebbe di venire qui a Lido La Fiesta Perfettamente, perfettamente We can dance Perfettamente, perfettamente Sì, tantissimo, questa è la terza volta che noi veniamo, ci troviamo bene Promozioni per una lunga e caldissima estate 2011 Pensate, per soli 4 euro a persona, da lunedì al sabato, nei mesi di giugno, luglio ed agosto Ingresso, lettino, posto auto e consumazione La domenica soltanto un euro in più, 5 euro Quindi per tutta l'estate Lido La Fiesta, Marina di Ischitella Una grande promozione con soli 4 euro a persona Usufruite dell'ingresso Più il lettino, più il posto auto, più la consumazione È qui Lido La Fiesta, Marina di Ischitella